caro luca ti ho sentito spesso parlare del veneto come terra d'eccellenza di valori di determinazione e di laboriosità e conosco bene queste caratteristiche perché rappresento i lavoratori della marca trevigiana uomini e donne che quotidianamente affrontano con coraggio la crisi nella difficoltà di fronte a questo però ogni giorno leggiamo sui giornali che basta grattare un po d'asfalto spostare un po d'acqua analizzare meglio le carte che emergono illegalità e male fare anche nella nostra regione allora dobbiamo prendere atto che esiste questo problema il problema della legalità nella nostra regione non possiamo dire che è sempre colpa di qualcun altro affrontiamo il problema in maniera seria c'è una responsabilità politica che di chi governa la regione tua luca e dobbiamo assolutamente affrontarla i cittadini non ne possono più i cittadini dicono basta basta anche in veneto da questo punto di vista ci aspettiamo che ci sia un intervento chiaro e chiarificatore rispetto a tutti gli eventi che conosciamo dobbiamo evitare che di cicatrice in cicatrice si sfiguri il volto d'eccellenza del veneto e per farlo dobbiamo farlo immediatamente